Prima la mascherina d'argento al teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona, poi la sfilata alle carri in corso video con la festa che si protrarrà fino a tarda serata al palazzetto dello sport di via 25 aprile. Il comune di Sulmona con l'assessorato alla cultura in collaborazione con la Venus Entertainment scalda i motori per l'evento più giocoso dell'anno. Sono aperte le iscrizioni per la 48esima edizione della mascherina d'argento che si svolgerà domenica 7 febbraio a partire dalle ore 18 al teatro Caniglia. Sarà uno spettacolo dedicato ai bambini con la premiazione della più bella mascherina del 2016. Possono partecipare gratuitamente tutti i bambini dai 2 ai 10 anni, massimo 40 partecipanti e concorrere con qualsiasi costume. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato alle ore 13 del 6 febbraio 2016 presso l'agenzia Viaggi Gian Pietro in corso video 257. Oltre alla mascherina d'argento sono previsti premi per tutti i concorrenti. Il concorso sarà presentato come negli ultimi 14 anni dal conduttore Rai Luca Di Nicola. Testimonia l'il giovane finalista del programma Rai ti lascia una canzone 2015 Marco Boni. Ad animare la serata la simpatia e l'allegria di animatori professionisti. Martedì 9 febbraio dalle ore 14 al via la sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e gruppi scolastici mascherati muovendo la via Le Roosevelt, Corso Video, Piazza Garibaldi, via Antonio Denino, Ponte Capograssi, via Le Togliatti per poi giungere presso il palazzetto dello sport in via 25 aprile dove avverrà la cerimonia di premiazione. Per gli spettatori il divertimento proseguirà con il concerto della band sulmonese di Rotta Su e con la musica del DJ Alex Natale fino a tarda serata. L'ordine di sfilata sarà stabilito in base all'ordine di iscrizione. Possono concorrere le associazioni, organizzazioni culturali e non solo. Le scuole, le parrocchie, le proloco, i club e qualsiasi privato cittadino all'estendo carri allegorici o gruppi in maschera di almeno 9 unità e potranno concorrere per una sola categoria. L'adesione va formalizzata sottoscrivendo un apposito modulo presso l'agenzia viaggi Giampietro indicando il tema che il carro e il gruppo rappresenta. Ci si potrà iscrivere fino alle ore 12 dell'8 febbraio.